Si chiama Rele Gaines e pensate che è stata discriminata la persona in questione del trans e ha fatto il record del college. Infatti è una star del nuoto riuscendo a fare grandi cose. È diventata una record woman, una record trans che gareggia contro le donne. È passata ad essere un maschio mediocre a livello di sport ad essere molto molto brava. Eppure però su di lei ci sono accanite e feroci polemiche, l'hanno molto criticata per il fatto che è trans. Molti infatti l'hanno discriminata, ma la persona in questione va avanti tranquilla e serena e giuliva perché si può ritenere più di soddisfatta per l'impegno che mette sul nuoto e soprattutto perché riesce a fare grandi cose, sempre e comunque in modo garbato, attento, meticoloso e determinato. Un'ora almeno, complimenti dunque a Rele Gaines. Il video termina qua. Iscrivetevi, commentatevi. Ciao a tutti di voi. Una buona notte.